A miei amici piace sempre prenderla dal lato poetico, dal lato sentimentale e dico che la bellezza del calcio sta appunto in quello che accade tipo nella partita di stasera, no? Perché nel calcio non c'è nulla di scientifico. Ero a letto, guardavo la partita giustamente, e era l'ottantesimo e dico questa Juve è qualcosa di impenetrabile, perché sino all'ottantesimo, sino all'ottantaquattresimo per la precisione la Juventus non aveva subito una sola occasione da rete, e dico una sola, forse al cinquantesimo quel tiro da fuori di Martial, ma non credo si possa richiamare tale, perché se chiamiamo occasione da gol quella allora la Juventus ne ha create 15 di palle e gol di quel genere. E quindi dico, caspita, 12 punti su 12, mattono il Valencia con un uomo in meno per tutta la partita, vanno a vincere all'Oltrefford, in casa non c'è storia, dico mamma, questi sono veramente dei mostri, e in parte lo credo ancora, perché poi comunque la partita è stata sbloccata da un bellissimo individualità tecnica, il gol di Mata, su punizione, però quello che fa strano è che sull'1-1, cioè non mi aspettavo quell'altro erroraccio lì, quel pasticcio che hanno combinato i difensori lì, quella carambola. La morale comunque è che secondo me non bisogna troppo specchiarsi. La Juventus mi è sembrata questa sera un po' troppo, per usare il termine giusto, presuntuosa, troppo presuntuosa. Ed è quello che è capitato pure nelle altre partite, sull'1-0 tu la partita la devi chiudere, hai avuto una valanga di occasione, e comunque mi dà l'idea che non dà mai il cento per cento, a me dà l'idea che la Juventus cerca sempre di gestire le partite, mai di affondare veramente. Stasera c'era, se poco poco avessero pigiato leggermente in più il piede sull'acceleratore, facevano 3-4 gol al Manchester, perché veramente hanno la qualità per farli il 3-4 gol a partita, c'è l'hanno, c'è l'hanno, cazzarola se c'è l'hanno. Ma se non la chiudi e se poi ti accontenti, arrivi all'ottantissimo e ti accontenti, sì dai, non siamo riusciti a farlo, il gol ti accontenti, la gestisci, poi non sempre, non sempre ti riesci che la porti a casa, non sempre, e così è stato stasera. Ripeto, resta il fatto che secondo me la Juventus anche dopo stasera, per me, per come intendo il calcio, è tra le favorite alla Champions, è tra le favorite perché ha troppa qualità nella fase di possesso, è veloce, è a girare palle, ad arrivare con molti uomini e quindi a fare male, poi ha delle individualità tecniche, ti possono fare gol con chiunque, da una palla di Bonucci, un traversone pennellato alla perfezione su Ronaldo e ti fanno un euro gol, nel modo più impossibile ti fanno gol, quindi figuriamoci, figuriamoci, e poi dietro sono tosti, dietro, cioè, ti ripeto, vi ripeto, fino all'ottantacinquesimo la Juventus non aveva subito niente, zero, assoluto, zero, poi sarà stato l'effetto Murigno, non lo so, è andata come è andata e di questo sono felice, giustamente, un interista vede Murigno festeggiare, festeggio anch'io onestamente, però interismo a parte, la Juventus se si specchia di meno, se abbassa un po' quella presunzione che ha e cerca di mordere e di affondare il colpo, difficilmente la si può fermare, difficilmente, e stasera hanno perso per, appunto, per questa troppa presunzione che non va bene, a mio modo di vedere, poi chissà, va bene ragazzi, comunque le italiane van forte, la Roma praticamente con la vittoria di stasera ha passato il turno, noi siamo in lotta, abbastanza messi bene, però chi lo sa, il Napoli anche, anche messo bene, e la Juventus, che ne parliamo a fare, quindi se facciamo un po' un riassunto delle italiane in Champions, fantastico, 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 e questa è una notizia positivissima. Ragazzi, niente, ditemi la vostra, io vi saluto, vi lascio con un grande abbraccio, l'effetto Murigno all'Allianz Stadium, la risolve lui. Se ancora non l'hai fatto, lascia un like alla mia pagina Facebook, iscriviti al canale YouTube e seguimi su Instagram.